È una chiavetta USB, secondo me ben fatta, è totalmente in metallo, è abbastanza robusta. È dotata sia della presa USB Type-C che della presa USB classica e sia della presa micro USB. Tirando su appunto questa sezione è possibile utilizzare la micro USB. Il sistema è abbastanza pratico, ha un sistema di blocco che permette di far rimanere USB chiusa ed ha anche lo sportellino inclinabile che protegge una delle due porte. Ha un sistema di blocco a scatto che gli permette di rimanere in posizione. Ecco che appare e infatti sarà possibile utilizzarla soltanto su dispositivi che hanno la funzione OTG, altrimenti ovviamente non funzionerebbe. È di 58,59 GB. Ho provato a trasferire sulla chiavetta un file, un file video 4K e devo dire che la velocità non è elevatissima. Siamo sui 13-14 MB al secondo, quindi non punta tanto ad una velocità estrema, ma bensì alla sua praticità di utilizzo e la sua versatilità.